ahahah, dai che faccio il filmato, ormai siete su il tv guarda che bello, guarda che bello vengo anch'io, vengo anch'io, vengo anch'io per vedere con la bella sotto braccio parlare d'amore e per scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, vengo anch'io cos'è quello lì? ma perché? cosa fa? questo qua però da fermo, da fermo ti riprende lui ah, ti toglie, ti cambia la fotocamera la fotocamera? ma voglio che lavoro lì, ho pronto ah, che non desiderio ma lo voglio, io lo posso ah, lo vassi? una cosa ma stiamo così, e di fatto le 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 Stai a vedere dei filmati, stai tipo Bossa, stai qui ci sono filmati tipo Bossa, dei filmati tipo Bossa. Ma stai proprio male! Non l'ho capito, cavolo io ce l'ho da tornare in tavola, ho da sterudine, ho da sterudine e lo vorrei chiedere. Tu ce l'hai chiuso? No, tutto, tutto bene, non l'ho chiuso. Intercarlo! 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 Restante! Ruschiai la. Intercarlo! Ehi, direi che è una cosa strepitosa stasera. Direi che noi siamo qua e facciamo fare questa cosa per sempre. Mi chiede che te lo metti in luce? No, devi tirarlo su. Ehi, direi che noi siamo qua e facciamo fare questa cosa per sempre. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti